Taglia le spese per le famiglie e stoppa gli sprechi, un vento di novità per quanto riguarda le menze scolastiche. È stata approvata dal Consiglio Comunale con 22 voti favorevoli e 2 astenuti la delibera proposta dall'assessore Lucia Tanti relativa al servizio di ristorazione scolastica. Le novità sono alcune, credo anche significative. La prima è che il bando durerà 3 anni, cioè indicherà una durata di 3 anni per chi se lo aggiudicherà e non 5, perché parallelamente in accordo col sindaco e con l'assessore Gamurrini stiamo individuando un'area per determinare un unico centro di cottura. Adesso ce ne sono 15 con questa nuova gestione 14. Verrà richiesta l'individuazione anche di una zona per poter fare un unico centro di lavaggio. In questo momento ancora il centro di lavaggio era presso una scuola e tenere i cancelli aperti facendo circolare auto o camion non è una cosa sicura per i ragazzi e quindi per le famiglie. L'altra novità è che finalmente anche i genitori che hanno bambini che fanno le scuole materne statali non pagheranno più gli odiosi 150 euro, indipendentemente dal fatto che il bambino o la bambina consumi il pasto, ma pagheranno il pasto effettivo. E questo credo che sia un elemento importante. Diminuisce la tassa di iscrizione da 50 euro, 20, aumenta la richiesta di investimento e soprattutto finalmente anche il fatto che chi gestisce deve forfettariamente pagare le utenze. Questa è la parte burocratica che però ha delle scelte amministrative significative. Più c'è la parte poi quella significativa che richiede e rivede la parte dedicata proprio all'erogazione dei pasti, chilometro zero portato alle estreme conseguenze, perché può vincere chiunque ma il territorio deve essere valorizzato così come il controllo, quindi si controlla meglio ciò che è vicino piuttosto che ciò che è lontano. E l'altro aspetto importante è l'inserimento, anche qui portato al massimo possibile, dell'utilizzo del biologico e insomma l'idea che a un certo punto anche il pasto è un elemento educativo all'interno della scuola, qualunque essa sia, di qualunque grado. Altre novità che abbiamo inserito è quella di prevedere degli incontri periodici con le famiglie, con gli operatori e poi i pasti che non verranno consumati, verranno destinati attraverso il progetto di chi vincerà, quindi il migliore a coloro i quali hanno delle difficoltà economiche, mentre i pasti che sono stati consumati parzialmente prevediamo di poterli distribuire anche ai cani e gatti della città di Arezzo, cioè insomma i randagi oppure quelli che sono nel canile.